Un campionato quest'anno soddisfacente, un campionato dei più belli in Europa soprattutto. Credo che fino alla fine sono stati obiettivi sempre aperti, sia per la retrocessione, come del resto lo sarà anche questa domenica, lo è stato per il raggiungimento dell'Europa League, il raggiungimento della Champions League e poche domenica fa anche per il campionato. Quindi meglio di così non potevamo chiedere. All'inizio sembrava un discorso già scritto, poi invece ha dimostrato che indubbiamente i valori si stanno un po' sottigliando, le differenze dei valori si stanno sottigliando e mi auguro che nel prossimo futuro le milanesi soprattutto possano tornare ad essere protagoniste in questo campionato e non lasciando solamente alla Juventus e al Napoli la possibilità di raggiungere questo obiettivo sicuramente importante che manca indubbiamente.